Una giornata di studio sulla riduzione dei carichi termici invernali ed estivi mediante materiali innovativi ad alta compatibilità. Si terrà il 3 luglio, dalle 15, presso il polo didattico di Monteluco di Roio. Un argomento di grande attualità, considerando che attualmente la città dell'Aquila e molti centri della sua provincia rappresentano un grande cantiere nel quale sperimentare nuove tecnologie per l'efficienza energetica degli edifici. La giornata di studio è rivolta ad ingegneri e tecnici del settore che nell'ambito del loro lavoro devono operare delle scelte nel rispetto delle normative vigenti e della compatibilità ambientale. Interverranno sul tema il professore Asdrubagli e il gruppo di ricerca Building Physics del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione di Economia, il DIE. L'evento si svolge con la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila della sezione ATI, Associazione Termotecnica Italiana Abruzzo. Porgeranno i loro saluti il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, l'ingegnere Pierluigi D'Amici, se il direttore del DIE, il professor Walter D'Ambrogio e il rettore merito, il professor Luigi Bignardi, presidente della sezione ATI e Abruzzo. A fare gli onori di casa, come sempre, la professoressa Domenica Paoletti.